Benvenuti a bordo comandanti, io sono Blizzard e oggi siamo qui con la portata principale la USS Louisiana, la nuova battleship TR-10 del mini ramo in rilascio delle hybrid battleship statunitensi. Siamo qui su Northern Waters, niente portaerei in acqua anche se noi siamo effettivamente ormai una piccola mini portaerei, compartimento di sole che comprende Kabarovsk Smaland contro Shimakaze Kleber, sulla carta sembra effettivamente un compartimento a nostro vantaggio perché lo Smaland è particolarmente potente ma questo Smaland vedrete che vi farà piangere durante la partita. Nutrito gruppo di incrociatori e poi diverse corazzate, tutto l'intera formazione è composta da navi TR-10 quindi il massimo che possiamo avere per un matchmaking per testare più le qualità di questa corazzata di nuova tipologia. La Louisiana è una nave mai realmente costruita, fortunatamente gli americani non sono mai bevuti il cervello costruendo questo brobrio che però con tutto il nostro rispetto effettivamente non è altro che una Montana comandanti con un'armatura secondo me più scarsa perché effettivamente la sovrastruttura con il ponte di volo così grande la rende più facile da danneggiare anche da cannoni di medio piccolo calibro e poi ha questo attacco aereo con i bombardieri che in questo caso sono dei BTD Destroyer Douglas classici della portaerei TR-10 americana Midway anche se esattamente come per la Lexington Tirotto che monta, scusate per la Nebraska Tirotto che monta i bombardieri della Lexington anche in questo caso i bombardieri Destroyer Douglas della Louisiana sono una versione nerfata in realtà di quelli della Midway. Siamo qua a nord del Cap DC, giocheremo in quasi totale isolamento perché la nostra Yamato non sarà particolarmente propositiva nei nostri confronti e la Curfus non ci metterà tanto prima di essere affrontata come la maggior parte delle Curfus che caricano in maniera suicida i cap e ancora in condizioni di totale combattimento. Prima tramvata laterale che smezza completamente l'herry italiano dei mozzi che mostra in maniera un po' assurda il broadside ai nostri 406 mm mentre comincia un'incessante pioggia di tiro ai nostri cofus che comunque potendo sfruttare le isole che sono tante davanti a noi e vicino allo sballo possiamo tranquillamente andare invisibili tra qualche secondo. Il compartimento HP della battleship americana arriva a 96.300 con un debole compartimento anti-torpe di riduzione del 35% molto più basso rispetto ad altre battleship TR-10 diciamo molto simile a quello montana con una cittadella laterale che è protetta da un fasciame che raggiunge i 409 mm a livello della linea di galleggiamento per poi diminuire leggermente quando si va nella zona immersa. Per quanto riguarda la velocità è particolarmente buona perché con la baderina potete arrivare a quasi 33 nodi di velocità con un timone che risponde in 950 metri di raggio virata con efficienza massima in 18 secondi e 6. Da questo punto di vista è stata anche qui molto molto simile alla vecchia nave da battaglia TR-10 della marina americana. Le sue capacità stealth sono migliori rispetto a quella della montana, è infatti avvistata a 13 chilometri e 600 metri via acqua e a 11 chilometri e 600 metri via aria e via immersa, qualcosa di meglio rispetto appunto alla vecchia corazzata con i 12 canoni da 406. Quelli che sono in azione sono i nostri BTS Destroyer Douglas, bombardieri incendiari con una Fire Chance pensate del 48% e un payload in bombe da due bombe per aereo da 7300 in squadriglia con sei aerei capaci di arrivare a un massimale di bomba di 7300. Il millimetraggio che possono arrivare a penetrare con queste bombe è di ben 42 millimetri. Per chi è abituato a giocare diciamo le portaeree sta bene che questi numeri sono abbastanza mediocre rispetto a quelli che sono gli standard veri delle portaeree. Per esempio la Mi 2 normale ha i suoi bombardieri incendiari evoluti, superano tranquillamente il 60% di Fire Chance, oltre 70 mm di penetrazione e le bombe superano gli 11.000. Quindi effettivamente come detto prima non è proprio la versione originale di questi bombardieri ma una versione diciamo rivisitata più debole. Per quanto riguarda i cannoni principali della nave sono due torri trinati da 406 disposti a prua più un torrione gigante quadrinato tipo quello della marina francese sempre da 406 disposto a poppa e quasi nascosto dalla parte diciamo più posteriore del gigantesco punto di volo della zona centrale della Louisiana. Questi cannoni ricaricano ogni 30 secondi e hanno un brandeggio a 180 molto interessante di 32 secondi e 6 quindi la nave gira le torri in maniera piuttosto veloce anche quando è in movimento. Il Sigma è di 1.9 quindi non è così precisa come la Nebraska ma sono effettivamente gli stessi identici cannoni della Delaware Tier 9. Infatti oltre ad avere un Sigma di 1.9 dicevo hanno una dispersione di 257 metri a 22 chilometri e 800 metri quindi una dispersione diciamo è un po' è particolarmente elevata ma al colpo ricorda un po' la sassata della montana quindi quando un incrociatore è completamente fermo è broadside questi 406 raramente vanno in overpen e fanno veramente molto molto male contro qualsiasi cosa colpiscono. Devo dire che i cannoni di questa nave sono stati abbastanza performanti e direi anche affidabili esattamente come sono anche quelli della montana almeno quando colpiscono a broadside il colpo fa abbastanza male specie sugli incrociatori. Il colpo incendiario arriva al 36 per cento di fire chance con 5.700 di danno massimo e una ballistica ad 820 metri esattamente come le altre nave della linea il colpo a P è leggermente più lento 7.62 con 13.500 di danno massimo. È un danno buono e la ballistica diciamo che è gestibile perché il colpo non è così lento come quello della Nebraska ma 7.62 ricorda un po' ad esempio la montana oppure sempre la Delaware o comunque le corazzate anche giapponesi come la Yamato hanno una ballistica una velocità del colpo molto molto simile. Queste eri che vedete nuovamente in azione ora andremo in drop sulla Curfus oltre appunto ad avere i detti statistici che avete sentito prima hanno anche una velocità di 142 nodi diciamo standard 180 di velocità massima e appunto si muovono 6 in attacco. Hanno poi un interessante boost della velocità che aumenta la velocità per circa 20 secondi e permettono appunto la velocità massima costante per 20 secondi e hanno appunto poi questi HP che arrivano a 2875. Direi che tutto sommato rispetto ad esempio agli eri che avete visto sulle navi precedenti i Destroyer BTS sono dimostrati molto più performanti contro qualsiasi target quindi in questo caso gli eri sono molto più forti rispetto all'8 e al tier 9. Guardate se guardate la montana comincia a farsi in avanti e la cittadella arriva come dicevo prima l'assassata laterale quando sparano questi cannoni è quasi sempre assicurata è un po' un marchio di fabbrica dei 406 americani. Per quanto riguarda invece il colpo diciamo l'attacco antisommergibile la nave è armata con un doppio lanciatore airstrike nei cieli di ogni 30 secondi che lancia fino a due bombe da 4900 di danno massimo fino a 11 chilometri. Anche qui è un diciamo un numero standard che abbiamo già visto in passato su altre navi è sempre della stessa tipologia classe battleship. La gita da massima con l'airstrike ante sommergibile raggiungibile è di circa 11 chilometri. Se guardate intanto la situazione comincia a essere piuttosto drastica per i nostri alleati perché guardate un po' nonostante diamo sì un vantaggio di punti il nemico a sinistra è molto più numeroso sta completamente mandando in rotta i nostri che tra poco verranno completamente investiti e tra l'altro noi non riusciamo a completare alcune serie di kill qua che ci sarebbero particolarmente utili sul lato di destra con una Yamato che è stata completamente passiva per tutto il match e una minima intenzione di avvicinarsi nonostante ci sia nessuno torpedo bot da questa parte che possa effettivamente metterla in difficoltà. Io dico sempre che quando le navi da battaglia non accorciano e non c'è un didina qua sbagliano sempre perché la maggior parte delle volte potrebbero fare molti più danni beneficiando sui tiri migliori a questa distanza senza i siluri che le impensiscono. Il problema è che molto spesso ci sono dei giocatori talmente codardi che giocano alle corazzate che hanno nessuna capacità di leggere i movimenti della flotta nemica e anche di capire quelle che sono le minacce principali della squadra avversaria. Dal punto di vista anti-aereo anche se in questa partita non lo vedrete perché non ci sono porti aerei è particolarmente potente ed è assolutamente a livelli della montagna se no leggermente superiore. È infatti armata con cannoncini da 20, 76 e 127 mm capaci di sparare fino a 6 chilometri con un danno massimale continuativo di ben 491 e un danno esplosivo di 1764. Avete visto la trambata laterale che è arrivata con la salva dell'Henry, della Curfus e anche della montagna che abbiamo appena affondato. Come detto prima l'armatura nonostante sia superiore a quella delle altre corazzate che avete visto precedentemente all'interno di questo tick tree è assolutamente inaffidabile perché appunto la zona centrale con quel gigantesco ponte è super super vulnerabile da parte di chiunque. Qualsiasi calibro può veramente farvi molto male. Abbiamo cercato ora di portare l'affondamento sulla Curfus purtroppo in maniera insufficiente perché è rimasta salva per un pelo e a questo punto non possiamo fare altro che accorciare nuovamente verso gli isolotti per cercare di finire le navi che ancora rimangono a galla e che non riusciamo effettivamente ad affondare. Devo dire che in queste circostanze mi sono sentito tantissimo da solo perché sembravo essere effettivamente l'unica nave che creava danni da questa parte in maniera veramente triste. Guardate che trambata adesso sulla Curfus quasi 13k e incendio che cade con una facilità e potenziale disarmante. La fair chance dei bombardieri è molto alta. L'incendio sulle corazzate è quasi sempre presente sulla Louisiana è quasi sempre così. Per quanto riguarda poi i consumabili comandanti a bordo della nave sono effettivamente quelli che avete visto anche sulle altre due, la Nebraska e la Delaware. Il classico fighter che non si può modificare perché effettivamente è la scelta obbligata che vi dà la Wargaming, il Damage Control e poi infine il Repair Party. In questo caso il Repair Party cura fino a 587 HP al secondo per 31 secondi con una ricarica standard circa 77. Anche qui nulla da segnalare, è qualcosa già visto in passato su tantissime altre navi di World of Warships. A questo punto stiamo un po' cercando di compensare un po' di ossigeno perché se guardate siamo anche bersagliati dall'Oyoshino e dall'Indenburg che stanno ora accrociando sul Cape DB per cercare poi di portare un vantaggio di basi alla squadra nemica, mentre ancora una volta la Curfus sono ancora vive e sono aiutate dal Kleber e soprattutto dall'Harry che cercano un po' di portare in kiting il resto della formazione. Sono totalmente da questo lato totalmente mancati i colpi purtroppo della nostra Yamato, assolutamente mancati. Se avessimo avuto un Yamato che sapeva sparare, sapeva posizionarsi bene, vi posso assicurare che Harry e Curfus sarebbero già state affondate e la partita poteva forse avere un esito differente perché immagino a capire che qua le cose si metteranno male. Prendiamo ancora un po' di ossigeno, ci spendiamo in avanti, qua ho ingrandito la minimappa perché stavo cercando di cambiare la ruota e quasi sempre lo faccio quando vado nei cieli con gli aerei, prendo la minimappa, la apro, utilizzo il pilota automatico per spostarmi in zone diciamo safe in modo che il nemico non possa sparare un incontro. Quel triangolino che vedete al centro dello schermo dove ci sono gli aerei, in realtà segnala che noi stiamo spottati in questa circostanza, ma d'altronde il Kleber magari ci sta spottando e c'è poco da fare, anche perché tra l'altro c'è un destroyer nella zona centrale che si sta ora spostando contro la nostra formazione e lo vedrete poi in un secondo momento. Torniamo sulla Curfus che è il target più vicino, stringiamo al massimo il nostro drop dei bombardieri giù di bombe e ancora una volta troviamo l'inceno addirittura doppio inceno sulla Curfus nemica. Ovviamente questa nave vuoi che è un abbia la riparazione, però adesso non ce l'ha, ovviamente tra poco riuscirà a spegnere i suoi incendi. Cerchiamolo di finire l'altra Curfus che era quella rimasta a 5k all'inizio, ma per qualche assurdo motivo è riuscita poi a sfuggire ai nostri colpi, ma soprattutto a quelli dei nostri alleati, mentre al centro il nemico controlla anche il cap centrale e tra poco l'intera formazione cruiser pesante con Innenburg e Yoshino ci sarà praticamente addosso. Guardando un po', stiamo pregando che il Marsiglia rimanga vivo in modo che effettivamente possa essere lui il bersaglio dei nostri nemici e non noi, considerando che ormai avremo addosso anche il torpedo tra poco sulla nostra destra, da parte della nave che ha effettivamente conquistato la zona centrale, anche qui oltre alle navi pesanti e alla Yamato in particolare, il compartimento destroyer della squadra avversa è stato assolutamente superiore rispetto al nostro, nonostante se noi schierassimo lo small, che come sapete è uno dei destroyer più forti mai creati al tier 10 in World of Warships. Cerchiamo di angolarci, tranchiamo quello che possiamo, i nostri alleati stanno venendo affondati uno dopo l'altro come dei polli, mentre la Yamato ancora una volta si sta allargando, sta scappando per questioni a noi completamente sconosciute. Ormai è scontato che il nemico che si nasconde ora in quella specie di cortina fumogena che c'è tra il cap di B e la nostra posizione, prima o poi lancerà i suoi siluri, decidiamo di utilizzare questo piccolo isolotto come scudo per scomparire e cominciare magari a recuperare un po' di punti vita anche se il nostro repair party ha ancora un minuto di countdown. Andiamo invisibili, utilizziamo il nostro adesso attacco bombardiere, restando comunque dietro l'isola completamente fermi e via di Yoshino. Siamo ancora spottati a livello di Aerosi perché hanno spot di 9 km a livello invece di navale, siamo ancora completamente invisibili. Drop nuovamente sullo Yoshino per la prima volta, però guardate un po' qua lì sono rimasta elevata perché non riuscivamo a stringere, entrano comunque se guardate quasi 11.000 oltre che ormai consueto incendio, siamo ormai ridosso dei 245.000 mentre riusciamo per cercare di trovare un colpo sulla fiancata dello Yoshino. Capite anche voi che qua ormai la cosa migliore da fare realmente era restare indietro e mettersi di prua usando l'isola per evitare i siluri che lo Yoshino sicuramente avrà sganciato, ma considerando che ormai i comandanti e loro sono arrivati a 850 punti e ci serve disperatamente una kill, comandanti la situazione era talmente disperata che a questo punto vai dritto per dritto, cerchi di fare più danni possibili e come va va. Se guardate sulla destra compare un'altra cortina fumogena mentre non riusciamo a trovare il maledetto colpo in cittadella sullo Yoshino che lasciamo lì a 10k e giù trambata di torpido, questo chiaramente è lo Shimakaze, tripla torpido da 5, non può che essere assolutamente lui. Siamo almeno a ridosso di 920 punti mentre guardate un po' dove è la nostra Yamato, completamente fuori posizione, il Kaboros che il Cap non lo prende neanche a morire e lo Austin poverino fa quello che può ma non può fare assolutamente niente perché è una nave fatta di carta velina, su questa mappa non può certamente pensare di vincere contro le battleship. Questo è il nostro punteggio alla fine, 255.000 danni circa, 72 colpi, qualche bomba a segno, diversi incendi sempre grazie alle bombe, 4 colpi in cittadella e qualche incapacitazione varia. Tanti crediti ottenuti grazie soprattutto ai bonus che erano attivi economici a bordo della nave. Per quanto riguarda il punteggio di squadra è piuttosto eloquente e dall'altra parte diciamo che il compartimento pesante dei cruiser con lo Yoshino e il Petro ma soprattutto lo Shimak e il Bear hanno fatto una differenza enorme, da questa parte se notate il Kaboros, lo Smallan non sono praticamente scesi in acqua come anche il compartimento batting compasso da Curfus e da Preussen che ha giocato Trenlass tra l'altro dovrebbe essere uno streamer ma non sembra essere particolarmente abile con quella nave da battaglia. Per quanto riguarda invece i moduli e le skill a bordo della Louisiana è lo stesso identico setup che avete visto anche sul Delaware. Abbiamo infatti il classico setup full tank a livello di skill con in realtà la variante stavolta delle brandeggitori che avete visto invece diverse sulla Nebraska ma perché qui il mimetismo non è così potente da metterci secondo me la skill di velocità maggiore quando la nave è invisibile e per il resto è un setup identico a quello del Delaware. Per quanto riguarda i moduli brandeggitori è migliorato, vediamo poi il potenziamento sempre della squadriglia aerea che aumenta gli HP, la velocità degli aerei e i tempi di riarmo oltre al classico sesto modulo a un famoso americano di miglioramento della precisione. Per me questo è il modo migliore attualmente per giocarla almeno almeno nelle random battle. Poi ovviamente nel competitivo i discorsi cambiano. Per quanto riguarda il modello armatura generale della Louisiana è il seguente. È una prima poppa da 32 rompighiaccio con una città laterale da 49 che in realtà è diventata 259 nella zona immersa della nave. Si è notata la differenza della Nebraska, è molto meno presente nella sezione 19 anche se in realtà ovviamente la sovrastruttura quella c'è sempre però c'è una parte da 38 laterale che cerca un po' di compensare sullo scherino che poi porta effettivamente al fasciame più pesante. Le torri poi hanno una protezione che va da 254 a 457 e devo dire che è molto difficile incapacitarle quindi sono torri molto resistenti con il setup che vi ho elencato. Il timone è da 50 come sulle altre navi di questa linea e poi la poppa da 32 è esattamente come appunto la prua. La cittadella è la seguente. Se notate è un po' più alta rispetto a quella delle altre navi e arriva effettivamente alla linea di galleggiamento precisa. C'è poi un fasciame da 457 che divide il ponte da 32 e offre effettivamente una spaziatura ma è comunque un fasciame che non vi rende assolutamente intoccabili dal tiro in cittadella sulla fiancata. Tra l'altro va detto che quel 259 che è leggermente più basso rispetto alla linea di galleggiamento lo si può colpire con dei calibri grossi a lunghe di stanza specie quelli giapponesi quindi in realtà quel 409 non è poi così efficiente come sembra a livello difensivo. L'armatura ovviamente vi protegge dal colpo degli incrociatori ma contro le corazzate non è una nave che eccelle nel combattimento avvicinato esattamente come le precedenti è una nave che si gioca a morti e fuggi a media e lunga distanza sfruttando poi quando siete unspotted o qualche isola per proteggervi i suoi bombardieri che come avete visto prima fanno particolarmente male specie su cruiser e corazzate e scatenano tantissimi tantissimi incendi. Questi sono i pro e i contro scusate ancora la tosse come andati ma l'influenza non si è ancora diciamo prodigata del tutto scomparendo i punti di forza potenti bombardieri incendiari discreto brandeggio torri ampia gittata e anti-era notevole non l'avete vista però ve lo posso assicurare abbastanza veloce in grado di colpire qualsiasi bersaglio grazie ai bombardieri cannoni affidabili e poi offre uniche varianti tattiche soprattutto nel competitivo avendo appunto questa squadriglia aerea che attacca nel competitivo questo aereo potrebbe averselo utilizzato ogni minuto per andare a capire dove è il destroyer per andare a capire chi sta conquistando una base per andare un po' magari a girare capire dove sono le formazioni in spostamento diciamo che questa nave effettivamente offre quello che offre a livello tattico una portairi sulla minimappa ma essendo schierata corazzata la si può attualmente schierare poi ovviamente se in futuro verrà bannata dalle competizioni o bannata dalle squadre attraverso il pick and ban questo noi non lo possiamo sapere però effettivamente ad esempio in una ranked battle una nave del genere vi può assicurare l'assoluta comprensione della formazione nemica su minimappa in maniera molto anticipata ed è un vantaggio tattico molto importante se il nemico non schierasse la stessa tipologia di nave per quanto riguarda i punti deboli mediocre resistenza contro i siluri superiore alle altre del tick tree in armatura ma comunque non il massimo i canoni da 406 mm sono un calibro che non offre bonus particolari comandanti a livello di penetrazione ci siamo ma a livello di danno ci sono quelle non molto più potenti 420, 431, 457, 460 per non parlare poi dei 510, 508 quindi capite anche voi che è comunque un calibro vecchio che va bene finché vi offrono il broadside o dovete colpire dei cruiser fermi o che comunque potete fare loro molto male ma contro le navi da battaglia questo calibro funziona un po' non sempre specie quando i giocatori sono intelligenti e non danno sempre il fianco come dei polli che avete visto in questa partita e infine continuo a domandarmi a questo livello personale per quale motivo un giocatore debba preferirla ad una montana e ci pensate a un'armatura simile alla montana un'antiaera simile alla montana a livello di scafo sto parlando di scafo poi a livello superiore la montana è migliore perché non ha quel gigantesco ponte facile da colpire l'imetismo è migliore ma comunque siamo lì a livello cannoni la montana ne ha 12 questa qua invece ne schiera bien 10 perché ha due torri trinate e una da 4 effettivamente io non ho trovato nelle random e nelle ranked secondo me un vantaggio così importante in questi bombardieri lo può diventare appunto nelle clan battle o nel competitivo grazie al fattore bombe al fattore tattico ma a livello prestazionale per quale motivo io dovrei rinunciare a dei cannoni per utilizzare degli aerei che poi quando utilizzo non posso usare i cannoni perché se la nave conta in massa a sparare quando gli aerei sono in volo allora riuscirebbe comunque ad avere un bonus di danno ma quando voi siete in volo questi è con gli aerei questi cannoni voi non li potete utilizzare questi cannoni non sparano quindi effettivamente state perdendo del danno ecco perché il più di volte potete stare anche sempre molto attenti quando utilizzare gli aerei perché se utilizzate quelli non potete effettivamente sparare con i vostri 406 quindi a livello di random battle per chi non gioca ad alti livelli nel competitivo questa variante bomber in realtà è diciamo limitata e non sempre performante ecco perché appunto andrà in conflitto con la montana e magari non tutti la preferiranno a una montana che comunque nelle random battle fa sempre la sua bella figura comandanti questa è la Louisiana spero comunque che la recensione vi sia piaciuta se avete delle domande fatele pure giù nei commenti su youtube vi ricordo che siamo all'entrino della settimana su twitch domedì al venerdì dopo le 20 e ringrazio soprattutto le persone che si abbonano alle nostre produzioni ogni mese sul nostro canale di twitch vi ricordo inoltre che con amazon prime collegandolo amazon prime app a twitch potete ottenere prime gaming e abbonarvi gratuitamente per 30 giorni e rinnovare poi ogni 30 giorni sempre in maniera gratuita dando un concreto aiuto a me e a mr grey comandanti io vi ringrazio ancora per tutto ripeto questa è la Louisiana questa è la mia opinione poi in realtà vedremo come si evolverà in fortuna nelle varie competizioni però per adesso secondo me nave si ha qualche idea nuova ma per essere qualcosa di veramente rivoluzionare secondo me la wargaming deve diciamo trovare qualcos'altro non sono pienamente soddisfatto di questa linea navale come invece pensavo in passato come sempre vi saluto e vi aspetto in un nuovo video comandanti buona caccia grazie a tutti